L'Istituto Professionale Ipsias di Marzio Michetti di Pescara e Confartigianato Imprese Pescara hanno siglato un protocollo d'intesa che consentirà l'avvio di un nuovo percorso didattico all'interno dell'indirizzo servizi commerciali denominato Marketing e Commercio Elettronico. Ne abbiamo parlato con Alessandro Del Rosso, Vicepreside dell'Istituto. Abbiamo pensato a uno svecchiamento del corso anche in base alle possibilità offerte dalla riforma per cui il Ministero ci dà delle linee guida che poi le scuole, i singoli istituti possono personalizzare sempre nell'ambito rispetto normativo naturalmente. Ora, in questo indirizzo di servizi commerciali abbiamo pensato di virarlo, curvarlo su un profilo di tecnico competente di web managing e e-commerce. Un percorso didattico che prevede anche un contatto diretto con le aziende del territorio. Ce l'informa Giovanni Cauti, presidente di Confartigianato Digitale Pescara. Sì, abbiamo previsto in effetti, ed è prevista comunque nel piano di studi, un contatto con le aziende e nel caso ovviamente dell'indirizzo di Marketing e e-commerce sarà molto spesso anche in maniera telematica. Per il professore Alessandro Del Rosso è importante che le famiglie si informino su questa come sulle altre possibilità che oggi le scuole possono offrire ai ragazzi. Il mio è un invito, al di là del mio istituto di cui faccio parte, alle famiglie a informarsi bene con doviziari particolari dedicando molto tempo al preorientamento è fondamentale per il ragazzo. Il nuovo corso della Di Marzio Michetti di Pescara ha ricevuto anche gratificanti consensi da parte di autorevoli addetti ai lavori. La presenza in campo nel mese di dicembre dell'Italian Russian Association è stata presente qui grazie alla lungimiranza della Camera di Commercio di Pescara e lo stesso presidente, il dottor Paolo Bellini, ha parlato a tessuto ampielodi del nostro territorio. La nostra idea è quella di contribuire a far uscire il professionista che può essere, e magari molto nascosto in ogni ragazzo appena finisce le scuole medie.